La nuova stella del firmamento musicale italiano questa sera si esibirà a Rovigo al Teatro Duomo. Siamo con Ruggero dei Timidi, cosa ci dobbiamo aspettare dallo spettacolo di questa sera? Beh, tanta musica, tanto divertimento e mi sono vestito così perché so che Rovigo da quest'anno è stata nominata Città del Reggaeton 2018. Per cui Rovigo è Città del Reggaeton e voglio omaggiarla in questo modo. Prima volta di Ruggero a Rovigo, importante. E cosa ti aspetti da Rovigo? Mi aspetto tanto calore del pubblico perché i miei fans sono abituati, sono molto abbraccevoli come si suol dire. Sarà uno spettacolo con la mia subretta, mia moglie Fabiana Incoronata Bisceglia, scelta dopo lunghe e destenuanti provini, soprattutto perché l'ho sposata, mi ha un po' obbligato, è una scelta in famiglia. Siamo a conduzione familiare, uno show a metà strada tra cabaret, musica e anche un po' digressioni scientifiche su quello che dicono le donne. Adesso non entriamo nel tuo merito, però le donne in generale. Ecco, come nasce invece il personaggio di Ruggero dei Timidi? Nasce cinque anni fa quando ho deciso di intraprendere questa carriera perché ho visto il successo di Checco dei Modà che ha riempito due volte lo stadio di San Siro e ti dirò ho provato un po' di invidia perché, non tanto per la pettinatura perché è meglio la mia, però ha riempito San Siro. Quindi pian pianino, a piccoli passi, passando anche attraverso Rovigo, arriveremo a San Siro e sarà chiuso. E Ruggero dei Timidi è più comico o più cantante? Sono un cantautore innanzitutto, però noto che la gente quando dico delle cose dopo ride. Ormai mi sono abituato, purtroppo è così. Per cui diciamo, vuoi dire comico? Dirò che sono un comico, ma le cose che dico sono vere, sono serie. Certo, l'abbigliamento è purtroppo per il reggaeton, perché Rovigo, città del reggaeton, si aspetta questo da me. Ecco, invece chi c'è dietro a Ruggero dei Timidi? Adesso ci sono due signori che aspettano il loro drink. Non so chi ci sia, a chi ti riferisci? C'è qualcosa che... La filosofia che sta dietro a Ruggero dei Timidi? La filosofia è far star bene le persone dicendo le cose come stanno. Perché nel mondo della musica c'è sempre queste canzoni, sole, cuore, amore, tutte queste un po' finte. Bisogna dire cose vere. La gente vuole le cose vere. Le cose che dice magari al bar o nei locali quando si parla. Come questo locale. L'Osteria ai Trani, che insomma è partnership dell'evento. Dopo la tappa di Rovigo come cambierà la tua vita? Beh, Rovigo diciamo è la tappa culmine. Poi da lì sarà tutto in discesa. Perché dopo passato Rovigo è tutto in discesa. Farò, diciamo, degli appuntamenti importanti. Oltre allo spettacolo Ruggero dei Timidi Show che porterò in giro in altre situazioni. Anzi, seguitemi sul mio Facebook, sul mio sito ruggeroditimidi.com. Uscirò con il mio vino che presenterò a Vinitaly la prima domenica di Vinitaly, il 15 aprile se non sbaglio. Che sarà un vino rosso, un Cabernet Merlot. Ripasso, mi hanno detto. Io non lo so, io l'ho assaggiato e era buono. Questo è stato, diciamo, il vino che ho scelto è buono. Sarà proprio il vino di Ruggero. Poi ci sarà la canzone dell'estate, farò ovviamente. E poi uscirò con il mio primo libro, un libro timido, cioè libri timidi, come gli Armoni, con la Y timidi. Sarà Tsunami di Passione, un libro da leggere sulla spiaggia, come 50 sfumature di grigio, ma più bello. Ti ricordiamo che qui si possono acquistare i biglietti per il concerto di questa sera. All'Osteria ai Trani, però visto che è questa sera, lo potete acquistare qua, oppure anche a teatro direttamente. Oppure lo spettacolo alle 21, alle 23 alla fine potete acquistarne altri, ma sarà già finito. Ma a me non interessa, perché i soldi li prendo, no, com'è la storia, non lo so. Salute. Facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi a Ruggero dei Timidi. E a Rovigo, città del reggaeton. Sì.